eccovi qui la fine di qualsiasi youtuber e il lavoro manuale nel mondo dell'idilizia grazie super bonus non ti ringrazierò mai abbastanza governo conte no dai sto scherzando ovviamente vi racconto cosa ho fatto durante la mia ennesima pausa della creazione di contenuti probabilmente questo canale ha avuto più pause che in momenti in cui effettivamente stava producendo di qualcosa magari anche discutibile dove sono finito perché questa assenza beh non romeo condiviso molte cose durante la mia avventura da divulgatore e ne sono successe davvero diverse è stato un percorso duro difficile pieno di alti e bassi ma soprattutto bassi ma partiamo prima delle cose positive prima di alla fine del video dove vi racconto un po alcune riflessioni alcune cose riguardo questo lavoro della divulgazione perché proprio ultimamente dopo tanta fatica sto vivendo finalmente un bel momento ed è senza internet spettacolare ho lavorato in questo periodo di pausa anche se in realtà una pausa non me la sono mai presa in quanto appunto ho lavorato tutto agosto anche senza prendermi pause senza prendermi ferie e mi sono anche formato ho studiato per fare altre cose nuove per la mia professione infatti il progetto di whatsapp economy si è evoluto non è solo divulgazione sui social sparando quattro cazzate non è solo teoria ma è diventato anche un esercizio di pratica molto spesso mi dicevano eh sì ma tu parli e basta in realtà da un po di tempo a questa parte faccio anche delle cose infatti il progetto di whatsapp economy si è diviso sostanzialmente in tre tipologie di servizi la prima formazione e divulgazione a proposito di educazione finanziaria dal 12 al 26 ottobre ci sarà la seconda edizione del mio corso di educazione finanziaria base quindi aperto a tutti anche a chi non ha nessuna conoscenza di finanza personale che si chiama le fondamenta più di sei ore di lezioni online dove potrete ottenere anche la registrazione delle lezioni e le dispense di tutto quello che andremo ad affrontare dove appunto su tre lezioni da due ore andremo a sedimentare le basi di finanza personale e di economia finanziaria quindi se siete interessati vi consiglio di andare in link in descrizione e prenotare il vostro posto perché ha avuto molto successo nella spassata edizione e quindi ho deciso di riproporvelo perché secondo me è un corso estremamente utile e invece per chi è al liceo c'è un altro corso di educazione finanziaria sviluppato insieme a cubo unipol che si chiama a spasso per wall street questo invece a spasso per wall street è totalmente gratuito per i licei e potete andare anche qui in questo link in descrizione per poter prenotare la vostra classe per frequentare questo corso di educazione finanziaria per liceo in maniera completamente online quindi le potete frequentare direttamente dalla vostra classe di liceo quindi in tutta italia se conoscete qualcuno siete dei professori di liceo vi consiglio davvero di andare a dargli un occhio e contattare cubo unipol per prenotare il vostro posto è completamente gratuito quindi non avete scusa eh come vi dicevo faccio delle robe questa effettivamente ancora la parte teorica questa avrà un'enfasi maggiore sulla componente dal vivo infatti vorrei fare tanti altri eventi in presenza perché mi danno più soddisfazione e mi possono essere anche più utili nel mondo lavorativo quindi continuerò comunque a fare video qui su questo canale però ci sarà una maggiore enfasi nel creare eventi e progetti nel mondo reale dove ci si può toccare e fare le cosine tra l'altro tra l'altro proprio a proposito di questo se siete dei programmatori degli informatici o giocate con la robotica e siete della provincia di lecce chiamatemi che magari possiamo fare qualcosa insieme quindi questa è la prima parte del servizi di whatsapp economy formazione e divulgazione economico finanziaria la seconda parte l'ho raccontata anche in altri video che è partita proprio da quest'anno ed è la parte di wealth management per famiglie o anche singoli individui ovviamente infatti con questo studio che vi ho raccontato kokumi finance uno studio di wealth management dove si occupa di consulenza finanziaria e patrimoniale dove appunto sto seguendo diversi clienti che stanno gestendo le loro risorse economiche e patrimoniali in maniera molto migliore rispetto a quanto facessero prima di me il terzo servizio è un servizio che ho lanciato proprio in questi ultimi mesi di mia assenza ed è un servizio di cfo per imprese che cosa significa è un servizio di cfo è praticamente una finanza aziendale se vogliamo cfo è un acronimo inglese che sta per chief financial officer ed è una sorta di lavoro tra il commercialista e un consulente finanziario svolge tantissime funzioni inerenti l'azienda che hanno una serie di obiettivi per migliorare l'efficienza delle risorse dell'azienda se ne volete sapere di più magari vi farò un video d'approfondimento se siete interessati però vi lascio il link in descrizione per approfondire anche questa tematica quindi cfo per imprese sto seguendo già un paio di imprese sto seguendo anche un investimento immobiliare da più di 2 milioni di euro e nonostante questo non ho ancora ricevuto una copertina da marcello ascani con il numerone gigante 2 milioni di euro o mio dio quindi sto seguendo questo investimento immobiliare bello importante sto seguendo diverse aziende insomma sto facendo come dicevo cose piuttosto pratiche che mi stanno facendo crescere da un punto di vista professionale e questa cosa mi mancava un sacco perché va bene la teoria però parlava un pubblico che da una parte ovviamente mi ringraziava per i contenuti che facevo ma dall'altra ovviamente mi odiava come qualsiasi cosa su internet però non avevo un contatto diretto no invece adesso avendo dei clienti che riconoscono le mie qualità mi ringraziano eccetera eccetera è proprio una soddisfazione molto più grande quindi questa parte della professione mi sta dando tantissime soddisfazioni che ormai la parte della divulgazione non mi dava più ecco ma per tutto ciò per tutti questi servizi queste cose che sto intraprendendo con whatsapp economy e kukumi finance tutto ciò ha bisogno di una casa e come vedete non c'è più lo sfondo tra l'altro quanto cato era brutto quello sfondo che usavo fino ad adesso adesso vedete un muro bianco perché whatsapp economy ha una nuova casa infatti è ancora un casino poi ve lo mostro con diverse immagini ma ho preso un ufficio ho preso un ufficio dio santo da quanto sognavo avere un ufficio buongiorno eccoci è arrivato il corriere dio santo da quanto desideravo avere un ufficio e sono troppo casato veramente un'esperienza incredibile un mio ufficio personale dove faccio quello che voglio mi sono trasferito in provincia di lecce quindi qui da dove sto registrando siamo a tre case in provincia di lecce prima ero a torino ho deciso da luglio di trasferirmi nella mia terra natia nella mia terra dove ho vissuto i miei primi 18 anni di vita becera il perché di questa scelta ve lo racconto dopo ma torniamo un attimo sull'ufficio perché me ne voglio raccontare ancora fino al mese scorso come dicevo lavoravo da casa ed era una esperienza traumatica venivo dal covid che anche quella era stata un'esperienza piuttosto problematica non so voi come l'avete vissuto però vi rinchiusi in casa vi abituate a certe abitudini poi io lavoravo prima ho studiato da casa poi iniziato a lavorare da casa insomma ero entrato in una bolla veramente asfissiante fatevi conto che ero più di 16 ore al giorno nella stessa stanza dove dormivo e lavoravo praticamente e questa situazione mi aveva completamente esaurito avevo momenti di totale burnout momenti di totale depressione anche se non sono andato da uno psicologo a confermarmi questa diagnosi però insomma non era veramente un bel momento era un momento di sofferenza di veramente un brutto periodo un brutto periodo non avevo più una routine non avevo più una dignità perché stavo lì sbattuto nella stessa stanza a meno che non andavo a fare sport non avevo la voglia o comunque la possibilità di uscire da quella stanza non avevo più possibilità quindi anche di fare networking insomma una vera e propria tortura che ti toglie completamente l'anima invece da quando questo ufficio da ormai quasi un mesetto e questi primi giorni sono veramente un sogno riesco a dividere l'ambiente lavorativo da quello familiare privato quindi so dove fare entrambe le cose riesco a godermele nella misura migliore possibile perché appunto so distinguere le due cose quando in realtà prima non succedeva questo ho una routine quindi mi sveglio faccio delle robe mi faccio la passeggiata per arrivare in ufficio questa passeggiata mi serve anche per svegliarmi e per riassettare le idee posso svagare mentre durante il tragitto casa lavoro o semplicemente andando a fare una passeggiata fuori dall'ufficio visto che qui siamo molto vicini al centro città e tutto questo fa bene allo spirito all'animo e anche poi di fondo anche al lavoro sostanzialmente invece prima ero spesso in pigiama era una routine che di nuovo non era una routine perché facevo sempre le stesse cose ma che non si distinguevano l'una dall'altra era un'abitudine immortale veramente quindi insomma se non l'avete capito lo smart working all'italiana cioè quello di lavorare da casa praticamente che non è il vero smart working se volete sapere di più di questo argomento ho fatto anche un video vi lascio il link in descrizione però insomma questo smart working all'italiana per me fa cagare non funziona ed è veramente terribile quindi almeno per me poi c'è chi a chi piace però non lo metto in dubbio e quindi insomma un po questo torniamo all'ufficio ufficio altri casi in provincia di lecce non è un mio ufficio personale ma una sorta di coworking perché ci sono dentro anche altre persone con cui posso confrontarmi collaborare e inoltre una cosa molto interessante che la maggior parte delle cose all'interno dell'ufficio anche se ancora un po mezzo vuoto devo sistemare ancora l'angolo studio altre cosette però la cosa importante è che tutto ciò è tutto o quasi tutto di seconda mano una cosa che abbiamo voluto molto fare in questo ufficio anche i monitor sono di amazon warehouse ad esempio insomma volevamo non solo perché non c'era budget fondamentalmente vi dico anche questa verità ma anche perché volevamo incidere su questi concetti di riuso riciclo e sostenibilità li volevamo enfatizzare anche nella maniera pratica e quindi l'abbiamo fatto anche con i fatti tutto è riciclato tutto è riutilizzato tratto ad esempio un altro aspetto che per andare al lavoro sulla bici che ok magari per uno di bologna o di ferrara dice benvenuto nella modernità in realtà qui al sud per quelli che sono vivono al sud mi capiranno anche soprattutto nelle piccole cittadine prendere la bici è una follia visto che qui c'è l'abitudine che anche per fare 200 metri bisogna prendere la macchina e quindi sto facendo alcune pratiche anche appunto sostenibili e cercando anche di dare un esempio agli altri di come magari potrebbe evolversi le potrebbero evolversi le nostre abitudini insomma pian piano piccole cose da torino mi sono trasferito a lecce anche da questo per questo motivo cercare di dare qualche stimolo alla cultura alcune volte anche abbastanza arretrate ma questo non solo perché lo dico io tra l'altro lo dicono anche i fatti ma anche perché lo dicono anche i testi di economia dello sviluppo una crescita economica va a braccetto con una crescita dell'ambiente sociale e culturale un progresso di questi ambienti sociali e culturali e quindi aspetti che storicamente il meridione è abbastanza indietro e quindi se sono qui non solo perché per altri motivi che racconto dopo ma anche per dare qualche tipo di stimolo anche con degli eventi dal vivo per cercare di cambiare un po la cultura che c'è spesso in questi territori ovviamente questo discorso che poi approfondiremo anche successivamente non sono dei discorsi come è venuto il supereroe che cambierà tutto l'ho sempre detto anche nelle mie attività divulgative questa mia cosa la faccio perché mi piace e perché voglio dare qualcosa in più alle altre persone però sicuramente non penso di essere il supereroe che salverà la terra grazie alla mia attività di divulgazione questo è poco ma sicuro voglio semplicemente restituire qualcosa tutti questi anni di apprendimento e apprendimento e formazione che ho accumulato al nord e voglio restituire un po alla persone di cui poi se ce la faccio o meno lo vedremo e anche se non ce la faccio non di certo non mi non mi colpevolizzerò quindi comunque vogliamo bassi e siamo sempre umili umili poi ovviamente se c'è qualcosa che attecchisce ancora meglio è ben venga però insomma posso dire che almeno ci ho provato ecco voglio darmi ho voluto darmi questa ultima chance prima magari di andare all'estero a mandare a tutti a fango ulteriore alert di questo discorso è che non credo che chi se ne va dal proprio paese del sud o addirittura dall'italia sia una persona spregevole eccetera eccetera lungi da me fare ramanzine o morali se non sono proprio il tipo di fare questi discorsi morali puntare il dito se per il vostro bene è meglio lasciare il sud italia oppure addirittura l'italia beh fatelo pure di certo non sarò io a dirvi di no lo farei anch'io questa scelta di andare in una situazione che per me potrebbe essere meglio solo che attualmente ho una situazione economica e familiare particolarmente positiva e che mi permette di fare questa scelta di tornare dal nord al sud in maniera sana e tranquilla quindi di nuovo non voglio dare l'esempio a nessuno la mia situazione particolare ho fatto questa scelta nella maniera più tranquilla possibile l'ho meditata anche parecchio tempo più di un anno e mezzo che sono stato a pensare se scenderò meno e quindi poi l'ho fatta però ovviamente questa scelta non è detto che sia utile per tutti quindi fate attenzione a quello che fate e di certo non sarà questo video a spingervi a prendere una decisione di rimanere al sud o rimanere in italia se non vi sentite a vostro agio vi sentite con opportunità migliori all'estero o al nord italia fatelo tranquillamente la mia scelta di scendere giù è anche derivante da alcuni progetti che vorrei fare qui come un po' più accennato in questa terra e quindi anche qui questi aspetti questa mia volontà di costruire un qualche progettino qui mi ha spinto a scendere giù altrimenti di nuovo sarei stato il primo ad andarmene quindi di nuovo fate come volete io vi sto raccontando semplicemente la mia storia e non c'è nessun intento di morale o di assecondarvi a spingervi a fare qualcosa di diverso cosa è successo prima e qui entriamo nella fase un po' depressetta del video vi racconto un po' di dettagli innanzitutto la pandemia non è stato un granché per me è stato un momento in cui sì mi sono laureato ho fatto delle robe però sono rimasto abbastanza statico e anche quando è finita la pandemia fondamentalmente sono rimasto un po' in questo limbo da pandemia in cui vivevo molte ore al giorno in casa e non facevo progressi da tanti punti di vista come vi ho raccontato anche il networking questo aspetto della pandemia è stato molto cruciale anche perché durante questo periodo e anche successivamente sono successi diversi episodi che mi hanno fatto un po di anni disannamora disinnamorare del mio lavoro da divulgatore dinamiche dei social che non accettavo più cioè devi stare sempre sul pezzo di fare determinati video insomma le solite cose acchiappa like eccetera eccetera che non ho la minima voglia di fare e quindi non accettavo più questa cosa però era anche il mio lavoro e quindi ero in questa situazione di conflitto interiore non sapevo come mediare queste due cose poi alla fine sono riuscito a mediarle uscendo nei social praticamente andando a crearmi una mia professione che mi consentisse di disaccoppiare le cose che vorrei fare sui social dal campare sui social e quindi questa cosa è molto positiva infatti sono molto contento di questo periodo che sto vivendo perché l'ho tanto cercato e alla fine l'ho trovato e quindi da una parte campo con la mia professione e poi tra virgolette ritornando un po i tempi di ciccio gamer lo faccio per voi è un mio hobby questa cosa di attività divulgativa anche se in realtà anche un po un mio lavoro è un lavoro che si collega con l'attività professionale comunque ci sono stati questi aspetti qui altre cose episodi successi con content creator o con agenzie che non mi sono sto dicendo perché ho visto un video simile proprio perché l'ho visto con i miei occhi c'è stata gente che mi ha detto che copiava contenuti degli altri e anche ovviamente funzionavano perché se copi cose che funzionano funzionano anche a te ci mancherebbe e anche questa cosa non l'ho vissuta bene perché io spendevo un sacco di ore per cercare di fare contenuti originali cercare di prendere qualcosa di nuovo eccetera eccetera invece loro copiavano a destra e manca facevano i soldi e tutto così veramente uno schifo ovviamente non posso farmi nomi però vi assicuro che è successo così ho ricevuto minacce di denuncia solo perché ho avuto un po la l'azzardo di criticare alcune idee di un altro divulgatore che minacciavano la sua credibilità e che magari insomma tutte le storie che magari voi pensate sono no flame cose però poi nel fatto pratico sono molto pesanti perché minano il tuo lavoro la tua passione per il tuo lavoro e sono veramente brutte tutti questi episodi accumulati mi hanno fatto un po perdere mi hanno fatto un po allontanare da questo mondo dei social della divulgazione perché mi facevano stare troppo male sostanzialmente lo so magari può sembrare un discorso da debole però è così sono sono fatto anche così purtroppo è questo non ho la pelle dura e dire va bene allora faccio quello che funziona a me piace fare solo quello che mi piace fare altrimenti sarei andato tranquillamente a lavorare per una consulenza nelle big four e prendermi il doppio dei soldi che faccio attualmente probabilmente però a me piace fare le cose come mi piace a me e avere libertà e avere della soddisfazione nel fare le cose e quel meccanismo e quei meccanismi che richiedevano i social e che facevano altri miei colleghi non mi davano soddisfazioni e per questo anche in molto pause avevo proprio una sensazione di rigetto nel fare i video perché non mi piaceva più quel modo di vivere questa realtà poi di nuovo pian piano ho aperto nuove strade ho trovato altre alternative quindi da diversi periodi in questa parte questa cosa dei social la faccio in un approccio totalmente diverso ci sono molte meno pressioni devo badare a molte meno persone magari all'agenzia che mi chiamato fare il video la sponsorizzata anche quelle cose come avete visto non le vedete più le pubblicità non ci sono più come va il video va il video non mi interessa l'importante che mi dia soddisfazioni a me è fine della storia questa è una cosa molto bella che di cui sono grato e ho rincorso questa questo status quo appunto dopo tanti periodi di sofferenze sostanzialmente non mi interessa diventare famoso e da tutta la mia vita che faccio cose di nicchia ascolto musica di nicchia faccio hobby di nicchia non guardo il calcio e quindi questa è l'ennesima riprova che non mi piacciono le cose mainstream e quindi non mi piace fare video a chiappa like con determinati argomenti in discussione faccio il mio faccio quello che mi piace poi se c'è qualcuno che apprezza bene se non c'è pazienza sostanzialmente questa è la filosofia che da adesso in poi avrà il canale e quindi ecco sti cazzi sostanzialmente vivrò anche di altro ci sono le mie professioni che mi stanno dando tantissima soddisfazione e quindi continuerà a fare quelle e i social come vanno vanno alla fine ecco di questo è un po il sunto della situazione mi piace come farli come che dico io e li farò come dico io meno visualizzazioni pazienza però molto più orgoglio e soddisfazione e non scendere in delle pratiche veramente che io trovo spregevoli e imbarazzanti vi racconto un'ultima cosa riguardo dalla decisione di trasferirmi qui a lecce perché prima ero a torino come dicevo insomma perché questa decisione perché avevo voglia di vivere una vita più nella mia comfort zone con gli amici dell'infanzia vicino ai miei genitori che stanno invecchiando hanno bisogno magari un po di aiuto voglio godermeli invece ero entrato in una situazione in cui ero fondamentalmente anche con i fratelli con i miei genitori un parente lontano pian piano stavo diventando e questa sensazione mi stava un po pesando devo essere sincero e quindi volevo anche riallacciare un po di rapporti un po di cose con la mia famiglia e quindi c'è stata anche questa componente familiare che mi ha spinto a scendere qui a lecce e quindi insomma anche con scelte personali sostanzialmente anche per inseguire altre passioni avere più contatto con il mare anche cose stupide se vogliamo è andare a farmi il bagno andare a prendermi una boccata d'aria rispetto all'aria super inquinata di torino anche piccole cose però che mi fanno vivere tutta questa esperienza in maniera molto più rilassata e bene sostanzialmente perché il mio lavoro già è abbastanza stressante e già il mio lavoro mi fa uscire abbastanza dalla comfort zone visto che ogni volta faccio cose diverse mi aprono gli orizzonti eccetera eccetera e quindi se nel mondo lavorativo avevo questa fuoriuscita dalla comfort zone almeno nella mia vita privata volevo avere un qualcosa di più tranquillo e quindi e qui penso di riuscire a trovarlo almeno per il momento non è una scelta definitiva magari tra uno due anni ritornerò al nord magari andrò in europa però per il momento vivo così per fortuna un lavoro che mi permette di fare queste scelte e quindi per il momento me la vivo in questo ambiente qui poi magari scoprirò che questo ambiente non farà per me e quindi mi trasferirò pure farà per me e continuerò a rimanere qui insomma vive un po alla giornata se vogliamo anche se ci sono diversi progetti che sto costruendo però il lavoro mi permette di fare di vivere questo approccio e quindi lo vivo perché no un altro motivo che mi ha portato a questa scelta di scendere giù e anche ovviamente il costo della vita che è molto più basso qui rispetto a torino quindi mi sta facendo aumentare anche il mio potere d'acquisto magari vi farò anche un video in questo senso perché ci sono davvero alcuni aspetti che sono mostruosi di quanto sia più economico vivere al sud rispetto che al nord un altro aspetto anche il networking qui riesco paradossalmente a fare molto più networking rispetto a torino perché ho aggancio di famiglia o conosco molte più persone quindi riesco a conoscere molte più persone sia in ambito di svago ma anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo che di nuovo può sembrare una cosa assurda ma al momento è così e quindi scendere giù a lecce mi aiuta anche nel mio lavoro paradossalmente sono voluto rientrare in una mia certa comfort zone che poi tutto questo discorso non bisogna uscire da comfort zone bisogna uscire la comfort zone tutti questi discorsi fondamentalmente ci ho abboccato in pieno cioè io sono stato continuamente da quando sono uscito dal liceo fino ad adesso a uscire continuamente la comfort zone cercare di apprendere il più possibile da qualsiasi situazione eccetera eccetera però diciamo che questo approccio mi ha anche un po esaurito mi ha asciugato l'anima e la voglia di vivere se vogliamo tra virgolette e quindi voglio ritornare un po a questa comfort zone dopo anni in cui cercavo situazioni sfidanti per imparare qualcosa e ho pensato che è arrivato il momento anche di godersi la propria comfort zone almeno in ambito privato è un po come la pasta col tonno sai che magari ci può essere di meglio però la pasta col tonno e la comfort zone della vita da studente della vita da single e ti piace a un certo bontà anche farla ti dà una certa soddisfazione ecco in questo momento sono nella mia pasta col tonno con tonno sto vivendo una vita migliore mi sto rilassando di più me la sto godendo molto di più ho molta più consapevolezza nei miei mezzi e nelle mie potenzialità e sono molto più felice di questo lo so ho sbagliato a non raccontarvi i miei periodi di difficoltà quando ero in difficoltà ma veramente era una situazione molto particolare e molto difficile e so che il classico video in cui a ragazzi sto bene ve lo racconto magari però non vi nego che ho vissuto momenti davvero davvero difficili complicati e non avevo neanche le forze o la voglia di raccontarvele e quindi invece adesso che sono molto più consapevole di quello che è successo in passato e di quello che è accaduto e di quello che voglio fare in futuro mi sento anche più pronto a raccontarvi i momenti più difficili niente questo è un po un video di ripresa delle trasmissioni e di aggiornamento benvenuti nel nuovo ufficio di whatsapp economy succederanno tantissime cose interessanti e vi aspetto presto sia nel mio percorso di educazione finanziaria le fondamenta ma anche per i ragazzi di liceo nel corso a spazio per wall street con cubo unipol alla prossima